USB, sciopero generale, manifestazione nazionale a Taranto, no ai ricatti, all'Exilva e nel resto del paese. Una iniziativa organizzata da USB che ha visto la partecipazione di gran parte della cittadinanza, studenti, associazioni, lavoratori. Un corteo che è partito dall'arsenale della Marina Militare. Lo sciopero credo che sia dopo tanti anni sia un primo segnale di unità, di ricompattezza che questa città ricercava da tempo. Stamattina abbiamo presidato le portinerie, c'eravamo noi come sindacato, c'erano tante associazioni di Taranto che stanno condividendo con noi questo tipo di percorso. Oggi c'è stato un bel risultato dal punto di vista numerico. Le portinerie, come dire, abbiamo notato che i pullman che arrivavano erano vuoti, quindi la gente non è proprio partita da casa. Quindi confermando quello che stiamo pensando e che stiamo praticando da tempo, c'è un livello di coscienza in quella fabbrica che si sta alzando e si sta maturando l'idea, un'idea chiara che non se ne può più, non se ne può più di lavorare in una fabbrica che continua a provocare morti per infortunio e soprattutto per malattie. Punto qual è? Noi con le associazioni stiamo condividendo un percorso che deve portare la chiusura delle fonti inquinanti alla reconversione dell'economia cittadina, anche e soprattutto perché abbiamo l'obbligo di garantire un futuro ai nostri figli. Oggi siamo a Taranto perché la nostra organizzazione ha scelto di convocare uno sciopero generale, approfittando anche della concomitanza con lo sciopero dei ragazzi di Friday for Future, dello sciopero mondiale per l'ambiente che anche questo mese si tiene in questa giornata, perché vogliamo dare un segnale importante, il segnale che il lavoro non può andare oltre la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza delle popolazioni. Il lavoro all'Ilva oggi è diventato l'emblema del lavoro sporco, di un capitale criminale che non si preoccupa della salute dei suoi operai, che non si preoccupa della salute dei cittadini, dei siti in cui le fabbriche sono sistemate. Sono ormai anni che c'è un tentativo da parte nostra, da parte dei cittadini di Taranto e delle associazioni di far sì che si trovi un modulo, un modello per impedire che la fabbrica sia una fabbrica di morte. Oggi abbiamo deciso di scegliere la parola d'ordine, chiudere queste produzioni inquinanti, basta con il ricatto del lavoro per quanto riguarda la salute. E oggi abbiamo voluto dare un segnale importante convocando qui a Taranto la manifestazione nazionale dell'USB perché vogliamo portare ai cittadini e ai lavoratori di Taranto non solo la solidarietà ma la vicinanza alla loro lotta perché la lotta dei cittadini e dei lavoratori dell'Ilva di Taranto è lotta di tutti perché è lotta di progresso, è lotta di giustizia, è lotta contro l'aggressione del capitale, contro la natura e contro il lavoro. Siamo qui a Taranto, abbiamo deciso di fare la manifestazione nazionale a Taranto raccogliendo l'appello dei ragazzi e dei giovani, dei Fridays for Future, in questa nuova giornata di sciopero globale sulla questione del clima che per noi oggi è Taranto perché oggi Taranto è l'emblema di quello che si sta abbattendo sull'umanità e perché oggi la città, i lavoratori sono sottoposti a un ricatto terribile, vergognoso, inaccettabile da parte della multinazionale dell'acciaio che pretende di continuare a velenare e di avere l'immunità, pretende finanziamento pubblico per interesse privato, pretende ulteriore qualche migliaio di usuberi sempre a spese della collettività, a chiedere una riduzione dell'affitto. Noi pensiamo che questo ricatto non si debba accettare, che i lavoratori, la città si deve ribellare, deve finalmente arrivare a una chiusura programmata di tutte le fonti inquinanti e quindi a una riconversione del territorio perché Taranto e i cittadini di Taranto hanno diritto a risarcimento dopo tutti questi anni in cui lo Stato e i privati hanno continuato a spargere veleni e oggi anche disoccupazioni. E ogni volta che noi diciamo che ce ne dobbiamo andare, che ho finito la scuola, ci dicono che siamo coraggiosi, quando il vero coraggio sarebbe rimanere a Taranto e lottare per l'amore della nostra città. Con questo avrò la giornata del 29 novembre e spero che possa essere una giornata di lotta e di dedicazioni per tutti e per tutte. Grazie a tutti e a tutte. Noi abbiamo aderito allo sciopero dell'USB come associazioni facente parte di Piano Taranto perché vogliamo un percorso che ci porti ad un'unione tra associazioni e operai perché questa divisione tra ambiente e lavoro non ci rappresenta. Noi chiediamo il lavoro, solo che chiediamo un lavoro pulito, un lavoro che consenta a tutti di lavorare ma non di ammazzare. Quindi è proprio per sfatare questo mito di distinzione tra cittadini e lavoratori. Partito! 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 E' da dieci anni che diciamo questo, che ci debba essere la chiusura degli impianti inquinanti con un piano serio di programmazione del riempiego dei lavoratori e di alternative occupazionali. Questo lo diciamo, in questi anni noi non abbiamo spostato di un millimetro la nostra posizione e finalmente quando poi nel 2013 abbiamo presentato per la prima volta un ricorso collettivo alla Corte Europea dei diritti umani abbiamo avuto ragione. Il 24 gennaio di quest'anno è arrivata la sentenza che dice che l'Italia non ha tutelato il diritto alla salute dei cittadini di Taranto. E quindi in questo senso noi continueremo a ribadire che ci deve essere unione sia tra i cittadini ma anche con gli operai perché gli operai sono anche coloro che rischiano la propria vita tutti i giorni sul posto di lavoro. E siamo qui, siamo contenti e soddisfatti di questa giornata soprattutto trascorsa davanti alla portineria perché siamo convinti che anche tra coloro che sono entrati all'interno dell'ILVA qualcosa è passato, un messaggio è passato e non torneranno a casa indifferenti. Noi siamo dell'USB Campania di Napoli, siamo qui per sostenere i compagni dell'ILVA anche perché l'ILVA è una situazione molto forte, è una situazione che va a intaccare l'economia italiana e non solo, va a intaccare quelli che sono i sistemi ambientalistici. Noi siamo per la rivendicazione dell'occupazione ma soprattutto rivendichiamo quella che è la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza all'ambiente perché è fondamentale. Noi lotteremo affinché ci siano processi di bonificazione nel proseguo e che si mantengano i livelli occupazionali. Questo argomento ci tocca molto, ci sono molte scuole, noi stiamo paragonando la vita di bambini, ragazzi, il nostro territorio, il cielo, l'aria per un'industria. E' veramente impensabile, noi stiamo morendo, stiamo morendo per il PIL, impensabile. Siamo un gruppo di cittadini del quartiere Tamburi, siamo mamme, ragazzi, mariti, ex operai, operai ilva e siamo qui per manifestare in piazza con i giovani e con anche i lavoratori perché questo è un desiderio che noi speriamo si possa avverare, operai con i cittadini. Questa giornata è importantissima per tutti noi, c'è la consapevolezza di poter lottare tutti assieme, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Noi veniamo da Trieste, siamo qui oggi ovviamente per esprimere la nostra vicinanza verso la battaglia di Taranto. A Trieste anche noi abbiamo l'altra ilva, la ferriera di Servola, che altrettanto, anche se in maniera meno significativa, sta incidendo sulla vita e la salute dei cittadini e dei lavoratori della nostra città. Trieste e Taranto sono per questo gemellate. Come USB stiamo portando avanti le rivendicazioni che chiedono che ci sia un futuro per i lavoratori, ci sia un futuro per i cittadini, ci sia un futuro per i nostri figli. Il lavoro non può essere un soggetto di ricatto e la salute va tutelata assolutamente. Per questo siamo qui da Trieste. Noi siamo lavoratori di AMA, AMA è la partecipata di igiene ambientale di Roma. Siamo qui in solidarietà dei lavoratori e della cittadinanza di Taranto. E' naturalmente la nostra battaglia. Salve a tutti e a tutti. Visti da qua sopra siete uno spettacolo. Oggi in piazza non ci sono cittadini, operai, studenti, disoccupati. Oggi in piazza c'è Taranto. La battaglia comune è quella della nazionalizzazione, della ripubblicizzazione delle aziende. Pensiamo che ci debba essere tipo uno stop a questo massacro perché dobbiamo proteggere le nostre vite e dobbiamo avere un futuro migliore per questa Taranto perché è una città bellissima. Sono Eliana Baldo e sono coportavoce cittadina dei Verdi. Noi scendiamo in piazza oggi perché comunque sposiamo sempre le tematiche del Friday. Come ogni venerdì anche oggi scendiamo in piazza con una motivazione in più oggi. Per dire stop alle fonti fossili e Taranto dovrebbe essere la voce maggiore, la voce più forte per quello che ci sta succedendo. Oggi in piazza c'è una città stanca di subire in silenzio. È importante questa giornata, è molto importante non per adesso ma per il futuro di noi e dei nostri bambini. Io sono qui perché voglio lottare per il nostro futuro e io voglio rimanere nella mia città. Non voglio essere costretta ad andare via perché io qui non voglio morire, voglio continuare a vivere nella mia città. E che abbiamo bisogno che l'Ilva chiuda perché qui ci sono genitori che hanno perso i figli e non ce la si fa più. Voglio dire che tutti i ragazzi di Taranto siamo qui determinati a portare avanti il nome di Taranto perché è una bellissima città e l'Ilva non deve rovinare questa città. Siamo qui per manifestare contro il cambiamento climatico e contro il più grande problema che abbiamo in questa città che è appunto l'Ilva. È per protestare dei nostri diritti, cioè per il nostro futuro, per i nostri bambini. Ecco, risponde mio marito. Niente, noi vogliamo un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Vogliamo lavorare e vogliamo respirare. Solo questo. Che Taranto deve essere unita. Unita perché non stiamo lottando solo per noi, ma stiamo lottando per i nostri figli. Sempre. Quelli nostri che sono di tutti. Di tutti. Oggi è una giornata storica per questa città. Oggi finalmente siamo tutti insieme, uniti, sotto braccio, con un'unica parola d'ordine che ci deve accomunare tutti, che ci deve garantire un futuro diverso, un futuro che questa città merita. Chiudere tutte le fonti inquinanti. Io voglio dire che noi stiamo partecipando per la chiusura dell'Ilva e per una bonifica da parte degli operai che lo Stato dovrebbe pagare e quindi per preservare il nostro ambiente. Noi siamo dei genitori molto arrabbiati perché viviamo nell'indifferenza delle istituzioni. Viene compromessa quella che è la vita dei nostri figli e noi vogliamo assolutamente che questa cosa cessi perché i nostri figli vogliono vivere e hanno il diritto di vivere un'infanzia e un'adolescenza comunque in salute. Ilva is a killer! Ilva is a killer! Noi siamo qui per difendere i nostri diritti. Cerchiamo di difenderli da solo visto che nessuno ormai pensa a noi, neanche il governo. Quindi rivendichiamo i nostri diritti. Siamo qui perché pretendiamo la chiusura di quel mostro e il reimpiego di ogni operaio per le bonifiche. Siamo qui a manifestare perché credo che sia in atto una vera e propria strage di Stato. Qui mi sembra evidente che l'articolo 32 della Costituzione non valga e questo non è accettabile, non è mai accettabile per nessuno. E quindi manifesto il mio totale dissenso in questo caso. Chiudere tutte le fonti inquinanti. Questa città ha dato! Sono 60 anni che ci massacrano per il bene della nazione. La nostra presenza qui è per questi ragazzi che abbiamo qua. Mi fa piacere vedere che sono partecipi numerosi. Lo facciamo per loro. Per loro, per porre fine a questo disastro, a questa dittatura che ci impone il governo. Lasciando la produzione a noi. Ieri litigando con un operaio di Genova. Sicuramente una cosa esclusiva, un cretino unico, un presumo. Ci ha definito il terzo mondo, l'Europa. E lui ha detto che dobbiamo produrre, dobbiamo stare zitti e buoni perché loro devono lavorare. Quindi dobbiamo liberarci da questa schiavitù. Ecco, da questa dittatura. Praticamente siamo sempre, come al solito, sempre sotto ricatto. O il lavoro, o l'inquinamento. Ora basta quello che vogliamo dire. Ci deve essere una svolta definitiva e basta. Noi veniamo da Napoli. Siamo lavoratori di pubblica utilità. Siamo in solidarietà con la città di Taranto e i lavoratori dell'Ilva. Perché pensiamo che bisogna ricostruire un futuro per tutto il sud. che però non può fare i conti con un sistema di questo paese che vorrebbe il sud relegato a discarica o a luogo di morte. È impensabile pensare che questa sia l'unica proposta per il sud. Nel 2019 siamo ancora costretti a vedere gente che muore e che deve scegliere tra il posto di lavoro e la vita. Noi siamo qua anche per ribadire che ci vuole per il sud una proposta nuova che riparta soprattutto dai territori, dai lavoratori ma che tenga conto innanzitutto della vita e poi del lavoro. Questa città ha già dato. E chi dice che se chiude l'Ilva la città chiude è un pazzo. È un pazzo che non si rende conto che se non chiude l'Ilva la città muore e la città sta morendo. Siamo davvero molto solidali con la città di Taranto, con i lavoratori di Taranto. Questa è una città che ha subito molto e che continuerà a subire molto se i cittadini e i lavoratori non prendano una decisione, cioè quella di chiedere con forza il risanamento di tutta la zona dell'Ilva a tutela della salute per prima cosa dei cittadini e dei lavoratori stessi, dell'ambiente perché oggi sempre di più si produce e si fa profitto a spese dell'ambiente e della salute. E per questo siamo qui, siamo a dare solidarietà ai Tarantini, e ai lavoratori della Exilva a Mittal Eoggi. Grazie. Siamo qui a dare sostegno alla manifestazione perché è giunto il momento di rendere questa città libera. Siamo qua come federazione regionale USB Basilicata a dare appunto sostegno a questa manifestazione per il clima in generale e per la questione Ilva. I nostri figli muoiono per produrre acciaio, per produrre veneno. Siamo qua per salvaguardare appunto la salute dei lavoratori e il posto di lavoro e quindi siamo per la nazionalizzazione di tutte le aziende strategiche del paese in realtà. solidarietà e non solo. Noi ci sentiamo coinvolti in prima persona essendo comunque tutti dello stesso sindacato dell'USB quella che è una battaglia che si combatte qui la combattiamo dappertutto anche perché pure negli altri territori compresa l'Emilia le contraddizioni sul settore operaio, sull'industria esistono e quindi bisogna mettere in campo un piano complessivo. L'Ilva chiaramente è un simbolo ed è il cuore di una problematica che non possiamo più ignorare non possiamo pensare che si debba scegliere o lavoro o natura noi diciamo che si può fare una strada di sviluppo industriale di sviluppo produttivo che faccia bene al nostro paese che si redistribuisca e che non sia lesiva dell'ambiente quindi non è appunto è solidarietà ma è anche partecipazione attiva a una causa nazionale. Siamo qui a Taranto perché abbiamo raccolto l'appello degli operai dell'Ilva specificatamente dell'Unione Sindacale di Base i quali coraggiosamente hanno posto il problema di superare questo mostro questo insediamento che ha manomesso la vita la salute i diritti dei cittadini di Taranto e dei lavoratori ma naturalmente hanno lanciato un appello affinché questo stabilimento sia riconvertito risanato riqualificato quindi in qualche maniera mantenendo anche il diritto all'occupazione che al sud come si sa è un diritto sacro per chi vive il dramma della nostra gente. Questa città ha la necessità di guardare oltre questa città ha bisogno di pretendere un futuro migliore tutto il futuro è un futuro